e giovanili dell'Umana Reier. C'è una difesa da parte di Rusickova, poi la transizione di Katerina Dotto che vede un barco, attacca il ferro e mette per ancora Katerina Dotto, grande assist e due punti. L'Umana Reier questa volta sul 6 a 12 ma un gran cane. Arriva la tripla di Depretto, l'errore ma c'è rimbalzo offensivo da parte di Rusickova che accelera con il Michović e Rikana Williams ma intanto si va avanti con Depretto che accelera il tiro ritardato da parte di Valeria Depretto e per l'Umana Reier è meno. L'accelerazione della giocatrice scarico, Michović, Walker, il tiro da 3 punti, Ashley, Walker, ancora il pallone con Walker che va su, appoggia il tabellone, altri due punti. Mani di Broni che si fa largo, attacca il ferro e la palla in qualche maniera entra Michović. Per Ravelli che apre il palleggio, poi batte Michović in velocità, appoggia il tabellone, l'errore, il rimbalzo da parte di Maia Rutina a cacere, l'assist sotto per Maia Rusickova, rovesciato che non va ancora, ma ancora Caterina Dotto a recuperare il pallone sotto l'assist di Kacerik per il canestro. Il pallone che arriva sotto a Bestagno, raddoppiata, riesce a controllare, poi l'assist per Maia. Che bello il cambio in direzione, bello il canestro, d'accata sull'avvicinamento a canestro, il sottomano in prima zona che è l'errore, lì va, segno. Dopo il rimbalzo offensivo c'è anche il peso, la propria stazza ad attaccare Bestagno, ma sbaglia poi il sottomano, il rimbalzo per Romano Reier, la transizione di Deborah Carangelo che porta a casa, canestro. Dando in angolo a Dotto che batte, lì e poi il canestro da parte. Batte Castello, si avvicina al ferro, arriva l'errore, poi il rimbalzo offensivo. Diena Sandri che non aveva giocato nella precedente partita per un problema influenzale, va al tiro, Castello da due punti. Attenzione persa sotto canestro, Moroni non viene servita, il pallone perso da Vojta, ci si butta sul parquet. C'è una che consegna a Ricana Williams, cambio difensivo accettato da Broni, il tiro di Williams. Mano sulla difesa di Miciovic su Premasuna che recupera il pallone Williams, poi la tripla di Martina Sandri. Gatti apre e chiude il palleggio, bello movimento di Premasuna che sul lato debole c'è Castello che continua a punire. Le ottime cose con la maglia di Broni Williams, anche lei dall'arco la tripla di... La transizione di Broni che va ad appoggiare proprio su Gatti, il bel movimento da parte di... E va addirittura in prima persona a transizione, poi gli viene portato per Broni, la palla nelle mani di Bestagno che viene letteralmente aggredita. Bestagno, il tiro da due punti, l'errore, ma ancora una volta Bestagno recupera il rimbalzo offensivo e mette a segno altri due punti. Ripetiamo, soprattutto a causa di un secondo quarto in cui la formazione Lombarda ha segnato appena due punti, ma adesso arriva la... Caceric ci prova da tre punti, la tripla di Martina Caceric, due giocate per lei. Miciovic l'assist per Caterina Dotto e l'Umanerei era lunga ancora e Broni ancora chiama il...